Siamo con Paolo Pettazzoni, presidente di Optovista. Come sta andando questo Mido? Bene, direi bene, siamo soddisfatti, buona affluenza, ieri molto bene, oggi bene anche oggi direi tutto sommato, buona giornata anche oggi. Quindi le aspettative in questo momento sono soddisfatte? Sì, sono soddisfatte, direi quasi anche qualcosa più di quello che si pensasse. A Mido si presentano le novità, quest'anno Optovista cosa presenta? Diverse novità, innanzitutto presentiamo il nostro nuovo listino che comprende delle novità per noi importanti, quindi una nuova gamma di lenti progressive e un nuovo trattamento antiriflesso chiamato Hard Brilliance. Grazie. Prego.